Quanto è importante dare a questi ragazzi una prospettiva di futuro, sapere dove andare? È fondamentale, è fondamentale fargli capire che cosa c'è sul territorio, che cosa c'è fuori dal territorio e cercare di far capire che cosa bisogna fare adesso per poter poi realizzare, diciamo, delle ambizioni nel futuro. Oggi l'incontro che abbiamo fatto con loro è a questo proprio come obiettivo, attraverso i relatori che sono veramente interessanti sul palco, dargli uno spaccato di che cos'è l'industria, che cosa vuol dire superare le difficoltà e che cosa poi l'aspetta nel mondo del lavoro. Tra i testimonial possiamo dire due opposti, uno che si occupa di social, quindi di virtuale, e uno disabile che è a confronto quotidiano con le difficoltà del reale. Perché questa scelta? Sono due realtà imprescindibili oggigiorno. In realtà i social non sono tanto virtuali, perché sono dentro le nostre vite in maniera preponderante. E quello che noi facciamo oggi rimarrà per parecchio tempo sul web, quindi è importante capire come utilizzarlo. Ha grandissime possibilità, non possiamo vivere senza social, saremmo completamente fuori dal mondo, però come usarlo è fondamentale ed è fondamentale che i ragazzi lo imparino già da oggi. Vittorio Podestà è un chiavarese, come noi, campione del mondo, medaglia d'oro olimpico, quindi una persona che ha saputo, nelle difficoltà, far emergere il carattere e trasformare le difficoltà in qualcosa che l'ha portato a essere quello che è oggi, quindi un punto di riferimento, non soltanto per lo sport, ma per la vita di tutti i giorni. Che cosa chiede il mondo del lavoro ai giovani di oggi? Entusiasmo, cercare di capire che cosa piace ai ragazzi, metterci il massimo impegno per realizzarsi dal punto di vista scolastico, istituti secondari e università e arrivare nel mondo del lavoro con entusiasmo. C'è bisogno di questo nelle imprese, nelle aziende, qualcuno che con forza porti avanti gli obiettivi dell'azienda stessa. Oggi c'è bisogno di entusiasmo e ottimismo.